Noi siamo arrivati a me, sono arrivato a scuola tedesca, a dare applicando la sua vita in cari di strada, ci ho detto che mi ha fatto capire e già mi conosceva, quindi mi sono filiato e mi è arrivato a strada, mi sono arrivato a strada, mi sono arrivato a strada, perché io non mi sono arrivato a strada, perché io non mi sono arrivato a strada, secondo me sta pagina può dare la mano, Grazie.